dai grande show piccolo bassai invece significa rompere la resistenza di una fortezza da questo si riesce a capire che è un kata basato sulla potenza la differenza tra i due è che nello show i movimenti sono molto più evoluti il tempo di esecuzione di entrambi è di circa un minuto e sono composti rispettivamente da 65 e 47 tecniche questo è un kata tipico di tutti gli stili grazie a tutti 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 grazie a tutti